Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipilì e in tutta la rete autostradale toscana. Sulla Fipilì restringimento di carreggiata nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni per lavori in corso. In A1 panoramica per lavori fino alle 6 di lunedì 19 aprile saranno chiusi i tratti compresi tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra l'allacciamento con A1 direttissima e Pian del Voglio in direzione Bologna. Sulla Firenze-Siena scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Ancora sulla Firenze-Siena per lavori chiusa l'uscita San Donato verso Siena. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! A1 Firenze in Pruneta